Asta fuori c'è il sole, non vuoi condividere Sono Bonifacio Parofalo, sono già stato amministratore del Comune di Camerota negli anni che vanno dal 1975 al 1998. Credo di aver svolto tale mandato facendo il mio dovere e di non essere mai venuto meno ai valori che ritengo fondamentali, quali l'onestà, la serietà e la professionalità. Ho assistito in questi ultimi venti anni ad una fase involutiva di degrado morale e materiale che ha caratterizzato la vita politica amministrativa del nostro Comune ed ho deciso di ripropormi per dare il mio contributo di esperienza ed impegno per cercare di migliorare la situazione attuale. Sono nella lista viva Camerota perché credo nella capacità e nell'impegno del nostro candidato a sindaco, Laino Orlando, al quale mi lega un Comune trascorso amministrativo ed anche perché vorrei attuare una proposta che nel periodo 1998 portai all'amministrazione comunale e che non ha saputo poi nelle varie amministrazioni che si sono succedute portare avanti. Mi riferisco all'utilizzo degli oltre 2.300 ettari del demanio comunale che rappresentano una grande potenzialità per il nostro Comune, sia per creare occupazione lavorativa dai giovani ai meno giovani e sia per creare introidi nelle casse comunali. Se me ne darete la possibilità vi dimostrerò nei fatti come il nostro Comune può esprimere le sue potenzialità attuando una serie di iniziative che possono creare lavoro ed occupazione in campo forestale, agricolo, zootecnico e turistico. Vi ringrazio dell'attenzione e viva Camerota! Vi ringrazio dell'attenzione e viva Camerota! Voi con me, baby